natale per tutti ha un dolce sapore è tempo di gioia l'albero brilla scintilla di mille colori nei nuovi locali della parrocchia mater ecclesie e lì per adornare lo spazio giovani il nuovo oratorio punto di ritrovo e di riferimento per i ragazzi che sotto la guida del parroco e il supporto degli adulti potranno qui trovare ascolto relazionarsi con gli altri crescere noi entriamo voi state a guardare ci spieghi questo nuovo spazio giovane spazio giovani vuol dire ridursi così cari amici ma soprattutto mantenersi giovani dentro il cuore avere la voglia la passione per crescere per inventare per esprimere la propria creatività e per vivere la propria vita in diretta a chi è dedicato questo spazio naturalmente a tutti noi ma soprattutto ai giovani nel cuore di età quindi a tutti i ragazzi che terminano il loro percorso di cresima qui ai 14 anni in avanti fino ai 18 anni ma poi si può sempre rimanere giovani e divergire fino a quando la vita ci regala spazio e tempo per esserlo tutto avviene nei nuovi locali della parrocchia quando verranno inaugurati il 19 dicembre ore 10 e 30 da alla sua eccellenza il nostro mestolo Giancarlo con una messa al termine della messa ci sarà la benedizione di questi nuovi locali all'interno della messa ci sarà anche un battesimo ci sarà la benedizione dei bambini insomma quel 19 dicembre non ci faremo mancare proprio niente un ultimo piacere inviti i giovani che ci stanno ascoltando certo se volete venite e vedete come diceva forse qualcuno di mia conoscenza o di nostra conoscenza non vi assicuro che ci sia qualcosa da mangiare però va bene terremo conto se verrete in tanti grazie a tutti grazie a tutti